Salve a tutti, allora con oggi riprendiamo il discorso della prova preselettiva tanto importante per il concorso ordinario perché sarà questa prova insomma a decidere chi potrà proseguire verso la possibilità di diventare di ruolo quindi scriviamo prova preselettiva e in particolare mi avete chiesto di vedere un pochettino la teoria perché si trovano tanti esercizi spiegati e tante persone che li spiegano ovviamente hanno facilità nello spiegarveli perché conoscono determinate regole però ovviamente per voi che non conoscete le regole insomma ci sono due tipi di preparazione o la preparazione che molti di voi stanno seguendo cioè mi esercito direttamente sull'esercizio senza conoscere la teoria che sta dietro l'esercizio oppure diciamo una prassi un pochettino più lunga però a mio avviso anche complementare e funzionale mi esercito su tutto ciò che è propedeutico alla risoluzione dell'esercizio così puoi so risolvere tutti gli esercizi allora diciamo che siccome in tante di queste prove che per coloro ovviamente non hanno cioè chi ha una formazione matematica scientifica è avvantaggiato chi non l'ha ha qualche difficoltà in più io ho visto che si utilizzano molto anche i grafici di Eulero per capirci ci sono quei grafici in cui ci sono insomma degli insieme rappresentati da una linea chiusa e degli elementi rappresentati con delle lettere piuttosto che con delle parole Vienna, Roma, le città europee, poi New York e una frase potrebbe essere qual è l'insieme che rappresenta le città europee questo è l'insieme A questo che ne so questo qui dentro è l'insieme A unione B e questo sarà l'insieme B ma potrebbe anche essere rappresentato in maniera diversa scusate questo è l'insieme tutto A e B e l'insieme A unione B solo questo che ho messo rigato è l'unione cioè l'intersezione scusate allora A intersezione B allora a questo punto già vi parlo di unione intersezione vi do, vi dico qualche cosa allora l'unione di due insiemi A e B indica l'insieme in cui sono presenti tutti gli elementi di A e tutti gli elementi di B quindi A unione B per B A se volessi rappresentare l'insieme andando a elencare per elencazione tutti gli elementi di A e di B vi dovrei dire è l'insieme formato da Roma Vienna e New York invece quando nei quesiti vi viene posto così ovviamente questo è una vi viene fatta in questa maniera una domanda che è forse sicuramente più intuitiva ed è grafica ovviamente allora nella sicuramente tutti avete fatto le scuole medie quindi ricordate anche le proprietà commutative cioè nell'unione ovviamente vige la proprietà commutativa che significa commutare che io posso scambiare l'ordine dei due insiemi ossia che A unione B è assolutamente equivalente a B unione A quindi siccome ci sono anche dei distrattori tra le risposte è possibile insomma che vi vengono presentate vi venga presentato l'insieme unione in due modi differenti e voi non dovete preoccuparvi del resto è anche valida la proprietà associativa nel momento in cui sono presenti tre o più insiemi ad esempio facciamo l'esempio con tre l'unione di A con B e C uniti assolutamente equivale a l'unione di A e B unione C inoltre giusto per l'appunto l'unione di A con A è sempre A se io unisco e sovrappongo A con un diagramma di Olerovenne riottengo il medesimo risultato e esiste un insieme molto importante che si chiama insieme vuoto ed è rappresentato con questo 0 spaccato ed è l'insieme che non ha elementi e l'unione di un insieme con un insieme che non ha elementi è sempre l'insieme di partenza quindi ci sono diversi modi per rappresentare un insieme abbiamo detto che l'insieme può essere rappresentato sicuramente per elencazione l'insieme può essere rappresentato secondo magari le proprietà caratteristiche ad esempio io voglio voglio dire la caratteristica per esempio di un insieme A numerico io posso mettere A che equivale ad un numero x appartenente ai numeri naturali quindi 1, 2, 3, 4 tale che x è compreso ad esempio tra 5 e 10 io così sto andando diciamo a caratterizzare l'insieme A composto in questo caso gli estremi non sono compresi se ci metto l'uguale comprendo l'insieme scusa gli estremi gli estremi non sono compresi se ci metto l'uguale ovviamente sto comprendendo anche gli estremi quindi l'insieme A sarà per elencazione 5, 6, 7, 8, 9, 10 o per diagramma di Euler-Oven ci saranno tutti 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovviamente se l'insieme B adesso ve lo faccio semplice è costituito da 4 e 5 A unione B sarà costituito da tutti quei numeri naturali tale per cui X è compreso tra 4 e 10 in questa maniera sto includendo nell'insieme sia gli elementi di A sia gli elementi di B viceversa nell'intersezione io sto andando a valutare solo gli elementi comuni quindi A intersezione e B di comune hanno solo il 5 da come unico risultato scusate la graffa mi è venuta proprio male qui ha come unico risultato il valore 5 anche qui vale assolutamente la proprietà commutativa che l'intersezione di A e B è uguale all'intersezione tra B e A assolutamente la proprietà associativa vale in ogni caso quindi A intersezione B con C è uguale all'intersezione tra A e B intersezione C l'intersezione tra A è sempre A viceversa l'intersezione A con l'insieme vuoto è questa volta l'insieme vuoto perché io sto andando a prendere gli elementi comuni e di comune non hanno niente in realtà poi ci sono anche le proprietà queste due le proprietà commutative dell'intersezione e dell'unione possono essere utilizzate insieme quindi vi sarà anche la proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione e la proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione mi rimane poco spazio e la cosa più semplice è che vi comincio a cancellare qualcosa allora seleziono devo prendere ok cancello qualcosa mi faccio un po' di spazio e ovviamente la proprietà distributiva dell'unione rispetto alla intersezione quindi distributiva unione rispetto intersezione che ha unito l'intersezione di B con C ovviamente è uguale all'unione di A con B intersezione A unito C ve la dimostro così cominciamo a prendere confidenza con quanto vi sto dicendo allora se n'è andato anche questo allora immaginiamo di avere l'insieme A B e C ve li rappresento ovviamente ho fatto in modo che vi sia se questo è A questo è B questo è C vi è sia A in questo caso A intersezione B intersezione C sarà questa parte più interna A intersezione C sarà tutta questa parte B intersezione C sarà questa e prendiamoci un colore quindi B intersezione C è tutta questa qui e facciamolo in rosso A unione a B intersezione C li devo aggiungere anche tutto l'insieme A e quindi l'insieme che ho ottenuto è questo qui non è difficilissimo no? adesso andiamo a vedere se è proprio identico all'unione tra A e B intersezione all'unione tra A e C facciamoci un altro grafico A B C ovviamente l'unione tra e B sarà tutto l'insieme A più tutto l'insieme B questo è A unione B A unione C sarà tutto l'insieme A più tutto l'insieme C e adesso l'intersezione tra questi due insiemi sono gli elementi comuni ai due insiemi ossia gli elementi che al tempo stesso fanno parte di A unione B e al tempo stesso fanno parte di A unione C quindi A unione B intersezione con A unione C sono quei colori che contemporaneamente hanno la caratteristica di essere sia rossi che grigi e quindi sono assolutamente questi e questi qui e come vedete abbiamo dimostrato in maniera molto semplice empirica che la valenza della proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione alla stessa maniera ma senza andarlo a dimostrare perché se volete lo potete fare voi ma non diciamo non c'è nulla di difficile a questo punto volevo cercare ecco di non cancellare benissimo quindi la proprietà distributiva dell'intersezione questa volta rispetto all'unione vedete qui era dell'unione rispetto all'intersezione e qui sarà A intersezione di B unione C quindi dell'intersezione rispetto all'unione e questa volta sarà A intersezione B e unione B scusate A intersezione C quindi l'intersezione tra A e l'unione di B e C è uguale ad A intersezione B unione A intersezione C bene abbiamo fatto un po' di teoria l'esempio dell'intersezione facciamo un piccolo esempio magari tra magari vi chiedo A intersezione B intersezione C e vi caratterizzo questi tre insiemi abbiamo un pochettino di spazio quindi lo utilizziamo e vi faccio un ulteriore esempio allora prendiamo ad esempio A lo facciamo per proprietà caratteristica è il divisore di 28 cioè tutti i numeri che dividono 28 quindi sicuramente facciamo per elencazione 28 è divisibile per 1 per 2 per 4 7 14 21 28 quindi per 14 e per 28 stesso 28 diviso 28 ovviamente è 1 poi ad esempio B che deve essere un multiplo di 7 ma minore di 49 quindi tutti facendo la tabellina del 7 tutti quei valori anche lo 0 è considerato multiplo tutti quei valori minore di 49 strettamente ma della tabellina del 7 fondamentalmente 7 14 21 28 35 42 e ad esempio ok già qui copiepito qualcosa che altro potrei mettere mi devi dare un allora per esempio C potrebbe essere potrebbe essere costituita tutti gli insimi delle potenze del 2 minori di 50 quindi 2 alla 0 è 1 2 alla seconda è 2 2 alla scusa 2 alla prima è 2 scusate 2 alla seconda è 4 8 16 32 e poi saliamo 64 non va bene allora se vogliamo l'intersezione vogliamo tutti gli elementi comuni quindi sicuramente io qui vedo il 7 ma il 7 per esempio non manca e in questo caso ecco no niente non abbiamo niente di comune quindi in questo caso abbiamo l'insieme vuoto mi sono sforzato di trovare qualche insieme sto ovviamente improvvisando adesso ve ne creo uno io ad hoc che ci dia un risultato non di insieme vuoto ad esempio me li invento io valori 4 7 28 32 42 allora tutti gli insiemi comuni allo stesso tempo sono il 7 e il 28 il 14 no perché è comune solo da B il 30 il 42 no perché è comune solo a B e C quindi questo insieme sarà costituito da 7 e 28 ovviamente questo può ma lo lascio a voi se lo volete fare essere rappresentato anche con i diagrammi dell'europele ma tutto questo può essere applicato alle capitali alle province ai gli studenti di una classe alle sezioni di una classe alla alla massa alle palline rosse gialle verdi oppure al cioè ci sono poi tanti esempi concreti alle squadre di calcio e no esercizi politici veramente non li fanno mai ma anche si potrebbero fare anche operazioni di insieme di unione intersezione anche tra partiti politici tra ministri e cioè come state vedendo c'è solo un pochettino di teoria che forse viene anche spiegata nei libri cioè io ovviamente ho comprato dei libri della preselettiva giusto per per la prova preselettiva giusto per valutarli ma essenzialmente sono esercizi spiegati cioè non c'è una vera e propria teoria della prova preselettiva e a questo punto ecco noi io sto adesso parlando ruota libera l'avevo anche scritto all'inizio di fare di provarvi a presentare la teoria della preselettiva perché non si ritrova ah che bello vedo che questo è powerpoint e sto usando una wacom perché in molti spesso mi chiedete ma che cosa utilizzi allora si possono pure mischiare dei colori l'ho scoperto adesso casualmente e quindi vi dicevo potrei potrei potremmo all'interno insomma di questi questo è il 105 105 sì 105 video di preparazione a concorso potremmo iniziare ovviamente se nei commenti voi mi dite che lo trovate utile cominciare insomma a dare delle basi teoriche per come affrontare tutti gli esercizi della preserettiva perché poi con le basi teoriche una volta che le avete un pochettino metabolizzate digerite imparate ovviamente poi le andiamo a utilizzare in maniera specifica sui vari esercizi e quindi voi imparate secondo me secondo un metodo lineare migliore cioè imparate prima la teoria che c'è dietro e poi utilizzate questa teoria per risolvere degli esercizi e non diciamo a ritroso voi partite già dal prodotto finale degli esercizi e cercate di inventarvi una teoria o molte volte cercate di farvi spiegare dagli altri o dai libri o dai testi come si risolvono ma così vi illudete a volte vi potete illudere di migliorare perché perché magari imparate in maniera mnemonica o meccanica la risoluzione di quello specifico esercizio ma non imparate il metodo invece se noi impariamo a monte il metodo a quel punto se ci cambiano di poco gli elementi dell'esercizio poco ci importa perché sappiamo come impostare il metodo risolutivo di quanto richiesto quindi ovviamente non vi abbattete solo con l'esercizio possiamo migliorarci impratichirci quindi affrontiamo con serenità ogni attimo di questi momenti preparatori e niente io vi mando un caloroso saluto 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 saluto